Io viaggiando per il mondo vedo tantissime cose, tantissime cose che arriveranno poi in Italia, perché noi arriviamo sempre un po' dopo. Come avere la sfera di cristallo. Quando tu viaggi vedi quello che poi sarà nel nostro paese, allora io prendo determinati modelli, determinati colori, capisco che cosa andrà poi, li metto insieme, creo dei disegni sull'iPad tra un viaggio e l'altro, tra un aeroporto e l'altro, poi li porto alla mia azienda che si trova in Italia e dico io vorrei realizzare questo, vediamo i materiali, parliamo delle cuciture.